Bisogna vedere la partita dopo la partita, noi siamo una squadra giovane e dobbiamo capire che il campionato di Serie B non è soltanto fatto da fattori tecnici, da individualità, ma anche da temperamento, dall'agonismo che ci mette in campo. Infatti, contro l'alternare all'inizio della partita non è che siamo partiti benissimo, poi dopo l'espulsione che manco c'era, secondo me poi non l'ho rivista e poteva dare meglio la partita. No, sicuramente le squadre piccole che vengono qua si chiudono tutti dietro perché facciamo fatica a fare gioco, loro si mettono 11 dietro ed è normale che fai un po' fatica. Mentre magari contro il Cagliari, come si è visto che abbiamo vinto anche 1-0, abbiamo fatto una gran partita e più riusciamo a esprimere il nostro meglio. Dobbiamo cercare di adattarci come contro l'Aternano e Novara, a delle squadre così che loro si chiudono, cerchiamo di adattarci al loro gioco, a magari correre di più, a lottare su ogni pallone che magari non abbiamo fatto. Vabbè, sono venuto qua per cercare di salire col Pescare comunque. Io con i miei compagni ce le ne ho bene in settimana, poi se le ne ho bene in settimana comunque il sabato dà il meglio di te stesso. Io vabbè, sono contento a livello personale, però come squadra le ultime due partite abbiamo perso quindi non posso essere contento. Io comunque secondo me devo iniziare a calciare un po' di più quando arrivo sul fondo e niente, perché riesco comunque a fare gli assist magari alla paduola così che sono sicuro che riesco a metterla dentro.